Il filosofo spagnolo José Ortega y Gasset nacque nel 1883 e morì nel 1955. In una sua opera chiamata La disumanizzazione dell'arte così scrive Che cos'è la metafora? Chiediamoci, poniamoci questo interrogativo. La metafora è la sostituzione di un termine proprio con uno figurato, in seguito ad una sorta di trasposizione simbolica di immagini. Per esempio, quando noi definiamo il leone come re della foresta, utilizziamo un linguaggio appunto metaforico, cioè attribuiamo in questo caso ad un animale quello che è la regalità. La metafora pertanto dimostra quanto la conoscenza umana possa, in un certo qual modo, possiamo utilizzare le virgolette cari pellegrini, possa dominare il reale. Attenzione, quando io dico dominare il reale, non intendo un dominare a livello di comprensione totale. Ecco, quante volte ce lo siamo detti, no? Il verbo comprendere viene dal latino cum prendere, cioè mettere dentro. mistero. E quindi, in un certo qual modo, una realtà che viene compresa è una realtà che viene conosciuta esaurendone completamente il mistero. È chiaro che questo non è dato all'uomo. L'uomo non può conoscere tutto. L'uomo non può nemmeno conoscere completamente Dio, perché l'uomo è finito e Dio è un essere infinito. Voi pensate che quando noi saremo in paradiso, così come dobbiamo appunto lavorare nella nostra vita per andare in paradiso, quando noi saremo in paradiso conosceremo meglio Dio di quanto lo possiamo conoscere adesso, ma non verrà mai il momento in cui lo potremo conoscere completamente, perché Dio è infinito. E quindi dicevamo, il dominare la conoscenza umana che è capace di dominare il reale non va intesa come una capacità di comprensione e quindi di esaurimento totale del mistero del reale stesso, no. Ma piuttosto questo dominio della conoscenza in merito al reale lo dobbiamo intendere nel senso di poter passare da un concetto all'altro, quello che si chiama appunto la conoscenza concettuale. L'uomo ha questa capacità, no? La conoscenza concettuale che non è data agli animali, tant'è vero che gli animali non possono progredire, l'uomo progredisce, gli animali non possono riflettere sulla propria vita, sulla propria esistenza, mentre l'uomo può fare tutto questo. E allora vedete questo che cosa vuol dire, questa conoscenza concettuale che cosa vuol dire? Che ci dice Platone essere stato Aristotele il primo a individuare la conoscenza concettuale, ma questa conoscenza concettuale significa che cosa? Attesta che cosa? Che l'uomo ha una sua dimensione spirituale, che l'uomo non è solamente la sua pancia, che l'uomo non è solamente il suo corpo, ma l'uomo ha anche una dimensione spirituale, l'uomo ha anche un'anima. E ciò quindi dimostra quanto sia vera questa espressione di Ortega e Gasset, che io adesso vado a rileggere a conclusione di questa sosta video. Lui dice la metafora è probabilmente la forza più feconda che l'uomo possiede. Perché la metafora è la forza più feconda che l'uomo possiede, perché la metafora richiama la possibilità di dominare con la conoscenza irreale. La metafora è l'attestazione della conoscenza concettuale, la metafora è l'attestazione della dimensione spirituale dell'uomo. Bene cari pellegrini, ci diamo appuntamento alla prossima sosta video. Vi ricordo come sempre che Dio è verità, bontà e bellezza.